Musica Si occupa il pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Musica Diretta dal Kennedy Stadium di Napoli si affrontano Fight Club contro Area Nord per la quinta giornata a torneo Soccer Cup squadre che ora si schierano lì al centro del campo per il saluto ai propri tifosi Formazioni che ora passano a darsi il 5 L'albitro del match Sandro Stanziano che ora chiamerà a sé Due capitani che sorteggeranno il tocco per la palla e per il campo Palla e campo lì ora Sorteggiati, palla e campo assiata all'inizio del match Primo tempo tra Fight Club contro Area Nord, risultato di 0 a 0 partenza da pochissimi secondi, ora assicuriamo tutta la prima parte del match Paese dei prestini Deット competenza Like Susp zum Viere Vedo Con Ai Quai Po Con Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Secondo tempo tra Fight Club e Area North risultato di 2-0 per quest'ultima, ora seguiremo tutta la seconda parte del match. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.